un po' delle trasfigurazioni, come vedere delle città sotto acqua, voi conoscete una città nell'Ettima, la vedete sotto, come fosse sprofondata nel mare, quindi allo stesso modo io avevo citato dei pezzi che sono della tradizione clavicembalistica ma ovviamente ogni tanto si incantavano, sprofondavano in queste acque, a volte torbide, a volte limpide, ed è un po' gli esperimenti che facciamo noi con questo gruppo NED, che fa anche lavorare sull'implorizzazione, lavoriamo su queste trasfigurazioni, cercando una musica più inconscia che conscia, e quindi questi autori li ho un po' tutti dentro, un po' a forza, un po' no, quindi avete ascoltato qualche, ma è inutile che vi dici no, perché sono talmente stati talmente trasfigurati, tutta roba comunque del Seicento, c'è un certo Splenderman, c'era Zwilling, c'era Capetone, c'era varia gente, un po' trasfigurata, rifacciamo un po', no? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.